Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video che spiego come scaricare e installare Last Day on Earth su PC ovviamente si può scaricare direttamente attraverso un emulatore per PC quindi un emulatore Android per Windows andiamo un attimo su Chrome in descrizione vi ho lasciato il link per questa pagina scaricate BlueStacks una volta scaricato e installato sul vostro disco non vi resta che aprirlo poi una volta aperto andiamo qua su App Sistema Play Store accedete con il vostro account scrivete Last Day scaricate e installate il vostro gioco se in questo caso avete problemi ad aprire BlueStacks vi consiglio di fare su BlueStacks esegui come amministratore quindi se io adesso vado a chiudere definitivamente BlueStacks lo apro mi esce questo errore delle impostazioni di Windows incompatibili però se vado ad aprirlo come amministratore quindi una volta scaricato e installato il gioco non ci resta che aprirlo e automaticamente assegnerà ogni tasto con ogni tasto della tastiera ok tipo per combattere spazio per aprire l'inventario tab per prendere le cose per abbassarsi control ed eccolo qua quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi spero tanto di esservi stato l'aiuto di questo nuovo tutorial e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao